Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video e indovinate un po' anche oggi vi parlerò di cibi fermentati, ma quante cose ci sono da dire sui cibi fermentati? Beh in effetti c'è tantissimo da dire, tantissimo da scoprire e anche oggi vedremo, scopriremo 5 alimenti fermentati che hai in casa tua senza saperlo assolutamente. Vediamo il primo, secondo voi quale sarà? Tra l'altro questi alimenti fermentati non sono alimenti che arrivano da qualche cultura dell'est Europa, della Russia, della Cina o chissà del Giappone, no questi sono prodotti tipicamente italiani e vi stupirà sapere che molti di questi alimenti consumati tutti i giorni sono dei cibi fermentati. Partiamo dal primo alimento, un alimento che davvero consumiamo tutti i giorni, spesso più volte al giorno ed è un cibo che troviamo in vendita ovunque in Italia, in qualsiasi paesino. Parliamo ragazzi dell'alimento tipico d'eccellenza italiano, il pane. Ebbene ragazzi, il pane è un alimento fermentato, molti di voi magari non lo sapranno, ma il pane è a tutti gli effetti un alimento fermentato e no, non parlo solo del pane a pasta madre, a grani antichi o fermentato dalla nonna eccetera eccetera. No, qualsiasi tipo di pane che voi trovate, anche il pan bauletto della mulino bianco è un prodotto fermentato. Ebbene sì, è proprio un prodotto fermentato. Ma com'è possibile che il pane che trovo da quel fornaio lì sotto casa sia un prodotto fermentato? Eh sì, lo è perché il pane viene fatto utilizzando oltre ovviamente alla farina e all'acqua e all'olio eccetera eccetera, viene fatto utilizzando il lievito. Ed il lievito è un microrganismo, in particolare ha un nome specifico, quello che utilizziamo per fare il pane, che si chiama Saccharomyceto cerevisee. Questo Saccharomyceto, che è un fungo, perché i lieviti appartengono alla famiglia dei funghi, letteralmente produce l'idride carbonica, alcol e altre sostanze proprio attraverso la fermentazione all'interno del nostro pane. Quando voi andate nel supermercato a comprare il vostro bel panetto di lievito di birra, beh sappiate che state comprando una coltura concentrata di miliardi e miliardi e miliardi di microrganismi, cioè di cellule di un tipo di microrganismo che si chiama Saccharomyceto cerevisee. Il Saccharomyceto cerevisee, ovvero il lievito, è ciò che fa lievitare il pane. E la lievitazione che cos'è esattamente? Beh, la lievitazione è la trasformazione dell'amido in anidride carbonica, in alcol ed in altre sostanze. E questo processo avviene grazie al metabolismo del Saccharomyceto cerevisee, cioè del lievito. E questo processo si chiama fermentazione. La cosa che molte persone non sanno è che per produrre il pane noi dobbiamo fare un processo che si chiama fermentazione alcolica. Quindi quando utilizziamo il lievito noi stiamo facendo una fermentazione alcolica che produrrà tanta anidride carbonica, tanto alcol e acidi e altre sostanze che faranno sostanzialmente lievitare il nostro pane. Che cos'è esattamente la lievitazione? Beh, la lievitazione è la produzione di questi gas e di queste sostanze da parte di microrganismi che viene intrappolata nella maglia glutinica del nostro pane, del nostro impasto. E intrappolando il gas la maglia glutinica si gonfia. Questo esattamente è il processo di fermentazione, anzi questo è il processo di lievitazione. Dobbiamo sapere che però il pane non si può fare solo con il lievito di birra, anzi in passato si utilizzava qualcosa di molto diverso dal lievito di birra, ovvero si utilizzava la pasta madre. E qui veniamo ad una versione diciamo di pane un po' più sana, diciamo un po' più genuina. Perché per fare un pane a pasta madre, quindi con un lievito madre, si utilizza cosa? La coltura appunto della pasta acida. La pasta acida o pasta madre o lievito madre non è altro che una coltura che fermenta spontaneamente, fatta di farina e acqua. Quindi io per produrre una pasta madre non devo fare altro che mescolare insieme farina e acqua e lasciarla fermentare ad un certo numero di giorni, a certe condizioni particolari. Ecco, il pane prodotto con la pasta madre è effettivamente un pane più sano del pane prodotto con il lievito di birra. Ma non perché il lievito di birra sia chimico, sia cattivo o chissà cos'altro. No, semplicemente perché i processi che avvengono all'interno di un pane fatto con la pasta madre sono diciamo più completi e più anche complessi. E questa complessità e questa anche completezza di fermentazione rende il nostro prodotto molto più digeribile di un pane fatto solo con il lievito di birra. La differenza tra lievito di birra e pasta madre sta nel fatto che mentre con il lievito di birra io utilizzo un'unica cultura di microrganismi che sono i saccaromiceti cervise, il lievito, nella pasta madre utilizzo quella che si chiama una cultura simbiotica, cioè un insieme di microrganismi che fa fermentare la pasta madre. E questa complessità di microrganismi che fa fermentare la pasta madre darà anche al pane degli aromi e delle caratteristiche anche nutrizionali molto diverse. Quindi comprate il vostro pane perché è un prodotto fermentato ma se volete mangiare un pane ancora più sano fatevelo a casa con la pasta madre oppure comprate un pane fatto con la pasta madre. E adesso vediamo il secondo cibo fermentato insospettabile che avete in casa di cui non sapete nulla. Questo è un altro cibo fermentato che consumiamo molti di noi tante volte al giorno oppure ogni giorno oppure ogni tanto ma è un alimento che facilmente si trova nel frigo di quasi tutti gli italiani e questo cibo fermentato ragazzi è lo yogurt. Beh, lo yogurt, proprio quello, è un alimento fermentato. Che cosa è esattamente lo yogurt? È un alimento fatto a base di latte che viene fatto fermentare un po' come il pane da una cultura questa volta di due microrganismi e questi sono lo streptococcus thermophilus e il lactobacillus bulgaricus. Questi microrganismi chiamati anche fermenti lattici in maniera un po' generica cosa fanno? Loro metabolizzano sostanzialmente il lattosio presente nel latte. Il lattosio è lo zucchero del latte e metabolizzando questo lattosio anche qua come nel pane producono anidride carbonica, alcol e altre sostanze, acidi, eccetera, eccetera. Queste sostanze vanno a coagulare le proteine del latte che si addensano appunto trasformando il latte da una sostanza liquida in una sostanza un po' più densa come lo yogurt appunto è. Ok? Ma lo yogurt invece, quello denso, quello greco, come faccio esattamente ad ottenerlo? Beh, lì si utilizza una strategia che è quella della colatura, ovvero una volta ottenuto lo yogurt io lo metto a colare e questo yogurt diventa sempre più denso perché perde ulteriormente parte acquosa. Quindi a tutti gli effetti lo yogurt è un alimento assolutamente fermentato. Attenzione, non è un alimento probiotico perché questo lo vedremo tra pochissimo, è però un alimento fermentato e nel suo piccolo dà un contributo importante alla salute umana. Cosa importante sullo yogurt è che non può essere consumato da quelle persone che sono allergiche alle caseine perché appunto nello yogurt ci sono queste proteine, le caseine che danno problemi a queste persone che non riescono a metabolizzarle. Mentre lo yogurt è naturalmente un alimento parzialmente o comunque totalmente privo di lattosio e può essere consumato dalle persone che invece non digeriscono il lattosio. Sul pane, tornando un attimo al pane, ecco anche qua c'è un problema con il pane perché il pane contiene glutine e non può essere consumato dalle persone intolleranti al glutine. Ma torniamo allo yogurt. Qual è la versione sana dello yogurt? Abbiamo visto che per il pane esiste il pane a pasta madre, ma per lo yogurt c'è una versione sana che è il kefir, ragazzi. Il kefir non è proprio uno yogurt, è un po' come il pane a pasta madre versus il pane con il lievito di birra. Per fare il kefir mi serve una cultura simbiotica che è fatta da decine e decine di microrganismi. Quindi la fermentazione del kefir è molto più complessa di quella che avviene all'interno dello yogurt, tant'è che il kefir è un alimento probiotico perché contiene microrganismi probiotici che arrivano vivi all'interno dell'intestino, mentre lo yogurt no, i microrganismi arrivati nello stomaco purtroppo muoiono. Anche se comunque lo yogurt ci dà dei benefici in termini di alimento. Ma passiamo ora al terzo alimento fermentato che hai in casa senza rendertene assolutamente conto. E questo alimento fermentato, come lo yogurt, molto spesso si trova in frigo. E sapete che cos'è esattamente? Beh, è la birra. Ragazzi, anche la birra è una bevanda assolutamente fermentata. Ed anche qua cosa troviamo? Troviamo i nostri amici lieviti che metabolizzano lo zucchero che trovano all'interno del malto, perché la birra si fa dal malto. Che cos'è esattamente il malto? Beh, il malto è una sostanza zuccherina che viene fatta dalla maltazione di un cereale, solitamente l'orzo. L'orzo viene lavorato in un certo modo, viene fatto germogliare attraverso la germinazione. I processi enzimatici sostanzialmente trasformano l'amido dell'orzo in zucchero e poi attraverso un processo di essiccazione eccetera eccetera, riusciamo ad ottenere la parte zuccherina all'interno dell'orzo. Questa parte zuccherina poi attraverso un processo di bollitura viene concentrata in quello che ad esempio può essere lo sciroppo di malto, oppure può essere polverizzata in quella che è il malto in polvere. A prescindere da come la si tratti, il malto è un cereale che viene germogliato e trattato in un certo modo per far sì che la parte dell'amido si trasformi in una parte zuccherina. Ok? Questa parte zuccherina a sua volta viene fermentata attraverso dei lieviti che anche loro sono parenti dei saccaromiceti e in questo processo di fermentazione noi abbiamo alla fine, con vari processi che dipendono dalla bravura del birraio eccetera eccetera, abbiamo la birra finale. Ecco, ma indovinate un po' anche qua ci sono delle alternative tra virgolette un po' più sane alla birra e quali sono? Beh ce ne sono almeno due sono la kombucha e il kefir ed anche qui queste due bevande non hanno in realtà molto a che fare con la birra sono diverse dalla birra però possono tranquillamente essere delle alternative alla birra per quale motivo? Perché contengono molto meno alcol e ormai come sappiamo tutti o quasi tutti o almeno chi lo vuole sapere l'alcol è una sostanza che non fa proprio bene la salute umana genera dipendenza genera un sacco di problemi altera il metabolismo è una sostanza psicotropa a tutti gli effetti e quindi meglio bere cose che contengano il più basso grado alcolico possibile ed il kefir e la kombucha contengono proprio un basso grado alcolico oltre a tutta una serie di altri importanti benefici ed anche qua cosa troviamo? Troviamo che il kefir e la kombucha sono prodotti da cosa? Sono prodotti da colture simbiotiche una sorta di pasta madre con la quale io produco queste bevande e come la pasta madre anche queste colture simbiotiche sono composte da decine e decine di microrganismi sia lieviti che batteri che letteralmente fanno fermentare nel caso del kefir l'acqua e lo zucchero nel caso della kombucha il tè zuccherato dandoci appunto le nostre amate buonissime sane bevande fermentate che sono alternative alla birra birra che io adoro che amo ma che purtroppo non posso bere perché non posso assumere alcol mi fa male e quindi bevo la birra analcolica oppure mi bevo il mio kefir e il mio kombucha guardiamo quindi il quarto alimento fermentato che avete in frigo senza rendervene conto questo in realtà potrebbe anche stare tranquillamente fuori frigo ma qual è esattamente questo alimento fermentato? Beh è diciamo l'alimento forse il pane un alimento molto rappresentativo dell'italia mentre questo alimento fermentato è un alimento rappresentativo diciamo del centro sud italia e sono le olive le olive che noi consumiamo generalmente hanno subito dei processi di fermentazione soprattutto quelle olive che si producono ancora in maniera tradizionale le salamoie le salature che si utilizzano nelle olive sono processi di fermentazione a tutti gli effetti e questi processi hanno molte funzioni all'interno delle olive quindi per esempio aiutano a disperdere a disciogliere le sostanze amare contenute nelle olive oppure aiutano ad ammorbidire le olive a renderle più mangiabili più gustose comunque al di là di come vengono trattate le olive sono un alimento fermentato e possiamo considerarle a tutti gli effetti come cibi fermentati qual è l'alternativa alle olive? Beh questa non ce n'è ci sono solo le olive e per fortuna ce ne sono tante teniamoci le strette continuiamo a produrne tante in italia così ecco facciamo bene anche alla nostra economia bene siamo arrivati al quinto alimento fermentato il più inusuale quello che ti stupirà più di tutti bene qual è questo quinto alimento fermentato che abbiamo in dispensa senza minimamente sapere che è un alimento fermentato beh ve lo dico a bassa voce sono i capperi i capperi sono alimenti fermentati perché vengono fatti attraverso processi di salatura a secco o di salamoia quindi a tutti gli effetti i capperi sono degli alimenti fermentati anche qua non ci sono alternative ai capperi ma non le vogliamo neanche perché capperi sono eccezionali già così in realtà ci possono essere delle alternative come per esempio i capperi di tarassaco o i capperi di altri boccioli di fiori ma diciamo che i capperi fatti quelli veri sono proprio un cibo buonissimo e non c'è bisogno di sostituirlo in nessun modo i capperi sono un alimento molto molto dicono contengono molta quercetina ed anche molti minerali e questa quercetina e questi minerali sono particolarmente biodisponibili nei capperi proprio perché sono dei cibi fermentati bene sapevate che questi cinque cibi fermentati si trovavano nella vostra cucina ma soprattutto sapevate che questi cinque cibi erano fermentati adesso vediamo nei commenti chi mi dice quali altri cibi fermentati abbiamo in italia consumiamo tutti i giorni senza sapere o senza immaginare o senza attribuire a questi alimenti il fatto che siano fermentati voglio vedere che cosa vi viene in mente io intanto mi chiamo marco fortunato mi occupo di cibi fermentati insegno a produrre cibi fermentati insegno a fare sia concorsi online sia concorsi dal vivo tutte le informazioni le trovate sul mio sito www.imianfermentation.it e se volete imparare a fare dei cibi fermentati non vi resta che iscrivervi ad un mio corso o frequentare un corso online sul tepe sul miso sul koji eccetera eccetera se vi è piaciuto questo video mettete un like sul video seguite il mio canale già con questo avrete contribuito alla mia attività ma soprattutto commentate perché io rispondo sempre ai commenti e mi piace molto leggere quello che scrivete grazie a tutti per aver visto questo video fin qui ci vediamo al prossimo ciao ciao